Aventra un gol 1-0 avete battuto il Sant'Alessio, la tua rete è stata preziosa? Sì è stata importante, però il merito è della squadra, del mister che ci alleniamo duro tutta la settimana, è tre settimane che lavoriamo grazie al mister Peroni e a Frassica e niente, spero di continuare così. Anche a Messina la scorsa settimana dai tuoi piedi è partito il gol della vittoria, quindi in questo momento hai fiducia nei tuoi mezzi? Sì, ma come ho detto prima è merito della squadra, non solo mia. Domenica c'è il riposto, la prima in classifica, come ti prepari per questa importante gara? Come ci prepariamo sempre, noi pensiamo sempre al prossimo avversario, lottiamo sempre, il nostro obiettivo è arrivare, penso ai playoff. Mister Frassica come è molto duro durante gli allenamenti e nella preparazione della gara? Sì sì, ma di più perone di Frassica.